CLOUD B 3 2 1 FIA Invece iniziate non ho ancora ne ho troppato Beh, CLOUD è sempre da rimuovirlo Hai ragione CLOUD è un matchup che di nuovo vedrebbe vincitere qua Però adesso devo pensare che per me la botella è un matchup E' un matchup che ha comunque battuto a una di più in Italia su Lugin E' una battuta nel pool del... Aliborda Nel pool è del suo appunto A fare subito al pool Quindi ecco la pool E' un pool E' come il suo avessimo avessi tagli Si, ha fatto solo un 3% Certo, ma comunque è vero E' un paio E' un matchup 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 Si ma... Adesso il matchup E' un matchup No, non ce l'ha fatta. Si, la corona è in pezzo. Diciamo, guarda, che è stata... Sì. Sì. Lo vedete con noi che si intera moltissimo in te? Sì, perché... Da moltissimi... Io... La volta... Sì, c'era di più una cade, ma... Per l'anno, non c'ha fatto. Non c'era più lontano. Sì. Però... Anche i suoi studenti che sono leggi che potrebbe misfare, se sanno. Soprattutto perché a me l'auto tantissimo il rotting. Sì. Non solo per ogni staff, ma anche per lontano. Sì. 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 E' riuscito a interrompere il behito cloud con la febri. E adesso potete farci ridurlo senza il limite. Sì. E poi sottare limite per la contrazione. Eh, no, è più facile. Perché già facendo questo... Penso per gli appartamenti di buttare limite subito perché è stata una baffa con lì. No, invece... Quella è stata rischio di... Buona l'idea, però ci dovrebbe... No, nemmeno, è rischiato. No, va bene. Perché in quello in vista aveva stato sotto lì solo te. Sì. Ok. È arrivato una... Dash attack. E prende il... Il forward game. E... 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 Riuscire a... E... 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 Riuscire a... Dipendere. Da... Tomelli è entrato ogni volta. E... 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 3 4 4 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 Sì, non è un buonissimo l'ending che foste l'ho controcauto. I can! Allora, si può essere un grosso. Ma pare di resta la... No, perché il cane è fermo. Gli esplode quando fa la feira. Vediamo una velocissima lì. Faccio un mondo molto meglio perciò un ciao. Ma è un gioco. Però... Cosa cazzo non c'è? È un personaggio molto imprevedibile. Sì? Ed è... Ed è... Comunque... Non è un match up che tutti conoscono. Decisamente. Lui potrebbe... Quella cosa non è fantastico. O addirittura... Cioè... Da quel che si può vedere... Forse... Questa è bella che si sta riprendendo. Sì. Questa è un match up che tutti conoscono. Decisamente. Perfetto. Comunque siete... Sta vivendo un po' là. Sì. Ha avuto una buona mobilità iniziale? Ma adesso è decisamente... Un po' scherzo. Anche se sono even. Ha avuto un ottimo momento. Sì. 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 E adesso... sp bridge e salvazione. Sì. Sì. Però. Sì. Però... per ora punire... ottimo che scondo... Dashpacking di segno Il Backhair... ... prende quel barattolo Ecco, poi potevo uscire fuori il Gaspar Ho proprio paura da cazzo della Bacchetti Questa è una delle cose che rende il Gat the Cat il lupo di Bacchetti Con una F1, il Gat the Cat Certo... Il Gat the Cat, il Gat the Cat, è un posto che... Tu sei confuso da schidare il barattolo per poterlo A me è un recupero sempre quando si sta a fare il barato Anche se c'è a dire che molta gente lo rispetta da camp off stage Certo E questo gli da molto... Ma la pena? A me, non la fila Prima F.I Rispettare come sia la camp off stage Dà molte più possibilità ai cani di recuperare Anche perchè è vero, è pericoloso sfidare il barato solo Ma non è quasi semplificativo, anzi Più l'altro... L'altro... Un taser non sta a prendere... Non sta a prendere i denti Poter venire... Gli angle su perché... Non ha più dato il tempo Mi sono rischiato a prendere Questa stai... Brava, ho provato Vado a riuscire a fare secondo me Adesso... Io però... In quei team non esistono... C'è... Strano Sì, ma è una mossa Ma i limiti non uccidessero... Ci sono uccidi proprio presi E' carino off stage se non vuoi rischiare Però... Eh sì, proverei a... Piantare poi un... Non lo so perché... Ha provato un certo di modo E' finito... Eh, adesso l'ha pulito di nuovo E' qui là Non si aspettava di essere prossimi Adesso... Già... Già... Con me la vince... Molto... Molto...